Angelo, il Teatro della Maruca ha un ottimo rapporto con i bambini, in particolar modo quelli dell'infanzia? Eh sì, per fortuna con i bambini riusciamo a relazionarci molto bene. Oggi lo spettacolo è dedicato a Pinocchio? Racconteremo insieme Pinocchio, lo farò io, lo faranno i bambini e anche gli insegnanti. Ecco, ci saranno come al solito i burattini? Saranno sia burattini che marionette e anche i bambini prenderanno parte sia nella messa in scena che è nella manovra di questi oggetti. Avete già organizzato tutto o in realtà è un'iniziativa immediata? No, diciamo che è organizzato da tempo, nel senso che con la scuola cerchiamo di tenere un rapporto continuo per abituare i bambini all'ascolto e soprattutto alle attività teatrali. Come reagiscono i bambini e qual è il loro impegno quando si ritrovano a dover fare, insomma, anche i protagonisti con i burattini e le marionette? Diciamo che reagiscono sempre molto bene, poi c'erano bambini che vengono apposta a scuola perché sanno che ci siamo noi, quindi per noi è un piacere. È finita la stagione teatrale della Maruca? Finita, sì. Speriamo in una stagione estiva qui a Crotone, ci stiamo provando. Com'è andata e soprattutto la risposta dei crotonesi? È andata benissimo, ottima risposta, abbiamo avuto tanti abbonati quest'anno, stiamo già lavorando sulla nuova stagione. L'altro giorno abbiamo debuttato con il nuovo lavoro, la nave fantasma, quindi siamo in piena attività. Siete insomma soddisfatti, nonostante non ci sia attenzione da parte delle istituzioni, continuate ad andare avanti e soprattutto a dare un bel segnale di cultura in questa nostra bella Crotone? Noi stiamo seminando, quindi nel momento in cui le istituzioni porranno l'attenzione su di noi, troveranno un terreno già arato, coltivato, che ha bisogno ovviamente di una spinta. Questo Pinocchio è un Pinocchio diverso dagli altri e è il solito Pinocchio? Secondo me è diverso, è diverso perché quasi in ogni scena cerco di fare un paragone con l'attualità, quindi che cos'è oggi il Paese dei Balocchi, chi sono oggi il Gatto e la Volpe. Chi sono il Gatto e la Volpe? Chi sono, io dico nello spettacolo che sono quelle persone che si nascondono dietro finti sorrisi e abbracci invidiosi, gente frustrata che purtroppo ne abbiamo tanta in giro, anche e soprattutto nella nostra città. Chi sono il Gatto e il Gatto.